Cibus 2022 siamo con Nino Marino della ditta Pisti che ci spiega un po' quali prodotti nuovi ha portato a Cibus, dove si trova l'azienda, insomma tutte le novità, prego. Siamo di Bronte, siamo qua al Cibus, la nostra fiera è la fiera per antonomasia, l'abbiamo sempre fatta, veniamo dal 2002 in questa fiera. Portiamo novità, portiamo i nostri livitati, portiamo le nostre paste di mandorla, ma soprattutto portiamo la nostra sicilianità fatta al modo nostro. Uno dei nostri prodotti principali è la crema di pistacchio, la facciamo in tante tipologie, chiaramente la più importante è quella con il nostro pistacchio verde di Bronte DOP. Siamo a Bronte, siamo nati lì e siamo orgogliosi di essere lì. Grazie mille. Grazie, grazie a voi.